Musica Sabato 25 luglio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolisse, una tragedia in apertura. Ieri sera a Termoli, nello scontro tra un'auto e uno scooter, è morto un ragazzo di appena 15 anni che era alla guida del motorino. Sentiamo il servizio di Manuela Iorio. Una tragedia enorme si è consumata poco prima di sera a Termoli, a Rio Vivo, in Contrada Marinelle. Un ragazzo di soli 15 anni di portocannone ha purtroppo perso la vita in uno scontro avvenuto tra lo scooter che guidava e una Peugeot bianca. Era in sella al suo motorino insieme a un amico quando in prossimità di una curva ha perso il controllo del mezzo, scivolando a terra e finendo contro l'auto che sopraggiungeva, impossibile per l'uomo alla guida evitare lo scontro. Aveva piovuto da poco e l'asfalto era scivoloso. Il ragazzo è finito con il corpo sotto l'auto e nonostante indossasse il casco, per lui non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati hanno provato disperatamente a salvargli la vita, ma non ce l'hanno fatta. Solo qualche ferita per l'amico che viaggiava con lui e che sotto shock è stato portato in ospedale da un'ambulanza della misericordia. Sconvolto il gruppo di amici che li seguiva in scooter e che tornava probabilmente a portocannone dopo una giornata passata al mare. La notizia del decesso del giovane è arrivata subito in paese e in pochi minuti sul posto sono arrivati i familiari straziati da un dolore immane, gli amici tutti in lacrime. L'incidente c'è stato vicino all'ultravolo sulla strada che da Riovivo va verso la zona industriale. Un tratto, quello di Riovivo, molto pericoloso, con curve insidiose e già in passato teatro di altri drammatici incidenti sul posto per i rilievi vigili del fuoco e la polizia. Dopo alcune ore la procura ha autorizzato la rimozione della salma che ora si trova all'obitorio di Termoli in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Le ultime notizie sul nuovo focolaio di coronavirus in regione. Ieri sono stati processati altri 255 tamponi, ci sono tre nuovi casi positivi, tutti legati al cluster della famiglia venezuelana arrivata in Molise all'inizio di luglio. Si tratta nello specifico di persone asintomatiche che hanno frequentato la famiglia venezuelana nell'edificio della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, che la ospita. Non sono comunque i frati. Sale così a 21 il numero degli attualmente positivi in regione. Ci sono anche 70 persone in isolamento e 116 in sorveglianza. Tra i luoghi di interesse della nostra regione, nelle ultime settimane stanno riscuotendo interesse le cascate di Carpinone. Sono state riscoperte dai volontari di Molise in Action che ai visitatori propongono anche un'attività originale che è l'acqua trekking. Sentiamo il servizio di Sergio Di Vincenzo. Nata con l'obiettivo di far conoscere gli angoli più belli e suggestivi della nostra regione, l'Associazione Molise in Action a Carpinone ha fatto un lavoro davvero eccellente. Ha permesso a tutti di riscoprire la seconda cascata presente nella periferia del paese, quella dello schioppo. Lo scenario del Carpino è unico, un corso d'acqua che si insinua tra la natura incontaminata e gli antichi mulini che in larga parte raccontano la storia e le attività legate alla transumanza. Ma il valore aggiunto del progetto è rappresentato dall'originalissima attività proposta ai partecipanti, l'acqua trekking. Si cammina nel fiume fino a raggiungere la cascata, naturalmente prestando la massima attenzione alle padrone di casa, le trote. L'acqua non è altissima, solo in presenza della cascata arriverà un metro e trento, un metro e quaranta, altrimenti a livello delle ginocchia. Lo scenario è suggestivo soprattutto quando arriviamo in presenza della cascata perché ci avviciniamo piano piano, siamo ricoperti da petasites che occupano il fiume, man mano ci avviciniamo, le petasites, il farfaraccio va via e vediamo la cascata in tutta la sua maestosità. Il merito di queste riscoperte è tutto di un gruppo di giovani del posto. Aiutati da tanti volontari e con il sostegno dell'intero paese, stanno portando avanti un progetto davvero interessante che ha già fatto il pieno di consensi. L'idea sviluppata da Molise in Action è nata così. Sono stati sempre i nostri luoghi del cuore perché erano quelli che visitavamo anche noi da piccolini e abbiamo voluto che tutti potessero usufruirne, diciamo. Quindi abbiamo semplicemente resi più accessibili alle persone, rendendo più accessibili i percorsi e facendo sì che tutti possano godere di questo spettacolo. Dietro c'è tantissimo lavoro, tantissime persone che ci danno una mano e che hanno reso possibile tutto questo. La passeggiata nel Carpino è qualcosa di veramente speciale. Lo stupore e la meraviglia prendono subito il sopravvento. Io sono molisano però non conoscevo quest'area di Carpinone e soprattutto le cascate di Carpinone, quindi è una modalità diversa per fruire del nostro territorio e scoprire le bellezze naturali e paesaggistiche che abbiamo. Il contatto con la natura, con l'acqua, col paesaggio, fantastico, bellissimo, profumi, sensazioni senza parole, ho la pelle d'oca, bellissimo, fantastico. È stata un'esperienza bellissima ed emozionante, la consiglio a tutti. Venite a Carpinone. Per partecipare all'acqua trekking lungo il Carpino è opportuno prenotare con largo anticipo. Ogni escursione fa sempre registrare il tutto esaurito in pochi istanti. Tutto pronto per la cerimonia conclusiva della 18esima edizione della Michele Buldrini, il premio regionale di narrativa indetto e organizzato dal Comune di Campobasso e dall'Unione Lettori Italiani con la direzione artistica organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della provincia di Campobasso. L'appuntamento con la cerimonia, la presenza degli scrittori Diego De Silva e Antonio Pascale si terrà questa sera alle 19 in Villa De Capo a Campobasso. In caso di pioggia la cerimonia si svolgerà al circolo sannitico. Lasciamo l'informazione e andiamo alla rassegna stampa. Con Gianfrancesco Iaccaruso in regia iniziamo dal giornale del Molise.it. Tragedia a Termoli, schianto tra auto e scooter, muore un quindicenne di Porto Cannone, poi un nuovo focolaio Covid, altri tre nuovi casi positivi su 255 tamponi processati. Schianto sull'autostrada dei Laghi, muore un giovane di Campobasso e poi altre notizie. San Martino in Pensilissi e i carabinieri scoprono una piantagione di marijuana nelle campagne del paese. Sfonda la porta di casa con un martello per minacciare una coppia, 47enne in carcere. Premio Buldrini alla cerimonia conclusiva anche gli scrittori Diego De Silva e Antonio Pascale. Ancora, sesta edizione della giornata della legalità, responsabilità e impegno organizzata dalla scuola sociopolitica di Trevento Paolo Borsellino e dalle Caritas dell'Abruzzo e della Molise. Poi autocertificazioni sui mezzi di trasporto per la Camera Penale di Sernia non sono legittime. A Campobasso arriva il nuovo comandante della Polizia Municipale, Luigi Greco. Toma incontra i sindaci sul tema della ricostruzione, fare presto, dopo Ferragosto, riunione operativa. Tutte le altre notizie le trovate sul giornale del Molise.it. Vediamo ora futuro Molise. Legnano si schianta in auto contro il furgone del cantiere autostradale. Muore un 25enne molisano. Poi individuata e sequestrata nelle campagne di San Martino in Pensilissi una piantagione di marijuana. Primo piano Molise frontale tra auto e scooter. Tragedia a Riovivo. Marinelle muore un ragazzo di 15 anni. Paolo Rotoletti viaggiava con un coetaneo. Rientrava a Portocannone. Il drammatico incidente all'uscita di una curva. L'asfalto viscido per la pioggia. Il passeggero se la caverà. Sconvolto il sindaco Caporicci. Lutto cittadino in paese. Campobasso l'assessore Nero sbotta e attacca Gravina come Trump e non è mai colpa sua. Complotto dal comune solo pratiche carenti. Stupefacenti. Lui in carcere. Le sue donne gestivano lo spaccio. Ieri le condanne dell'operazione Alcatrazia San Martino sequestrate 18 piante di marijuana. Profondo russo. Sanità in Molise il disavanzo più alto d'Italia. Il dato nel rapporto annuale sulla finanza pubblica della magistratura contabile. Al secondo posto il Piemonte. In Calabria il deficit è sceso a soli 17 milioni. Ricci incontra Tome Florenzano impegno per rilanciare il Santissimo Rosario. Il bollettino. Focolaio venezuelano. Altri tre positivi sono di Campobasso. Poi a Termoli San Basso la Romeo e Rosalia Papponetti porterà il santo ma niente processione. Poi a Campobasso vertice vacante da sei anni nominato il comandante della polizia municipale. Poi schianto nella notte perde la vita a un 25enne residente a Campobasso. Capriati carabinieri nel locale per un controllo picchiati dai titorari coppia molisana in manette. A Venafro vende giocattoli in città a giudizio per l'omicidio di Serena. Mollicone. Lo sport. Iscrizione in diva su Girardi Agnone. Sistemano le pratiche. Poi eccellenza di Gregorio e Napolitano all'Isernia. Colpo rega a Capriati. Pallavolo i programmi di De Toma per l'F Sport. Andiamo ai quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera. Ora Fontana è indagato. Accusa di frode in forniture il governatore, regione sempre più corretta, Lombardia e Camici nel 2015. Scudò 5 milioni in Svizzera. Bloccati 250 mila euro al cognato. Ansia per Zanardi è instabile. Torna in ospedale il campione ricoverato al San Raffaele di Milano. Dal Corriere della Sera andiamo a vedere l'apertura di Repubblica. L'Italia fragile. Questo è il titolo. Dopo Palermo, bomba d'acqua a Milano. Siamo nel continente. Quelli a maggior rischio idrogeologico. Ma dei 9 miliardi di opere stanziate nel 2015 contro il dissesto. 7,5 sono bloccati dalla burocrazia. Il ministro Costa svolta verde con gli aiuti di Bruxelles. Turchia, Pamuk, la moschea di Santa Sofia è un errore. Ci costerà caro. Dopo Repubblica c'è la stampa. Soldi subito anche con il MES. Parla speranza. Tornano a salire i contagi. Abbiamo bisogno di almeno 20 miliardi per la sanità. In Europa il virus supera i livelli di guardia. L'Italia impone la quarantena a chi torna da Romania e Bulgaria. I carabinieri boss adesso piangono. L'arma a zera i vertici provinciali. Questa è l'indagine di Piacenza. Santa Sofia è moschea. L'Islam incorona il sultano Erdogan. Dalla stampa andiamo a vedere l'apertura del messaggero. Al sud il 40% del recovery. La ministra De Micheli, il governo è d'accordo. Saranno 83 miliardi. C'è un gap nei trasporti con il nord che ha creato disuguaglianze e adesso va colmato. Appalti pilotati per i camici. Indagato il governatore Fontana. Milano accuse per una fornitura la ditta del cognato e della moglie. La sfida di Alex all'ipocrisia. Non scusarti dopo gli insulti. La deputata Ocasio Cortes è il collega sessista. Dal messaggero andiamo ad avvenire che titola Soffocati dall'usura. Le storie della pandemia sociale. Imprenditori e famiglie in crisi di liquidità costretti a chiedere soldi fuori dal mercato ufficiale. Situazione critica a Bari. America-Cina, altro colpo nella guerra dei consolati. Chiusura di due sedi, ma Pechino non forza dopo le pesanti accuse di Pompeo. Salute, diritto globale, subito la conferenza Costituente Terra. Facciamo come l'ONU. Da avvenire al Fatto Quotidiano. I mestatori, fake news, il falso allarme sulle casse vuote dello Stato. Assalto a Conte. Il sole 24 ore spara e Gualtieri smentisce, ma dopo ore. Giornali e PD scatenati sul salva stati superato dal recovery fund. Poi ancora, camici al cognato Fontana, indagato, turbativa, d'asta. Andiamo all'apertura del tempo, che titola La zampata dell'arma. Pugno di ferro dopo il caso Piacenza. Via ai vertici provinciali il gesto che serve per ritrovare la fiducia degli italiani. Con i sindacati di sinistra l'alluvione è assicurata. Continuiamo con la stampa nazionale. Il manifesto titola Premio Infedeltà. Al via agli interrogatori dei carabinieri di Piacenza, arrestati per traffico di droga, estorsione e torture. Nel 2018 i militari furono premiati per i particolari risultati conseguiti nella lotta allo spaccio di stupefacenti. Il comando generale dell'arma azzera i vertici provinciali. Poi sinistra nasce la rete eco solidale. Ieri una maratona delle voci. A ottobre l'assemblea. Dopo manifesto, il manifesto, vediamo la verità. Il fidanzato di Rocco Casalino, segnalato all'antirriciclaggio. Il cubano compagno del portavoce di Conte è finito sotto controllo per scommesse in borsa con una carta di credito alimentata anche dal conto corrente dell'ex volto del grande fratello. Schiaffo di Erdogan alla chiesa profanata. Santa Sofia, poi banchi e precari, Azzolina e Arcuri, coppia antiscuola. Il ministro e il commissario terrorizzano le famiglie con annunci e bandi impossibili. Questa era la verità. Vediamo adesso libero. La dolce vita dei carabinieri indigna troppo gli italiani. La sinistra si compiace dello scandalo che travolge i nostri militari e li paragona agli agenti statunitensi allo scopo di delegittimare lo Stato come accade con la chiesa e i pedofili. La Azzolina fa saltare i banchi, neppure la ministra sa usarli. Dopo libero il secolo, punto IT, cambiate mestiere. Meloni con le partite IVA, i ministri del governo Conte devono cambiare mestiere e liberarci dalla loro presenza. il sole 24 ore, torna il premio contro l'uso dei contanti. Poi per la plastica è in vista una tassazione doppia da pagare all'Unione Europea e all'Italia. Poi dalla ripresa in Asia, ossigeno all'export. Poi l'oro sfonda a quota 1.900 dollari e avvicina il primato del 2011. Dopo le notizie economiche andiamo a vedere quelle sportive. La Gazzetta dello Sport titola Inter messi. Bene, un gioco di parole tra sorpasso per il secondo posto e il sogno di mercato. Alle 19.30 contro il Genoa, Conte può tornare alle spalle di Ronaldo. Intanto il club prepara l'assalto a Leo per il 2021. Poi belle a metà, finisce 1-1 la sfida tra le squadre più in forma. Milan e Atalanta pari ed emozioni. Gigio capitano para un rigore. Allarme Champions, Juve in difesa e Douglas Costa KO. Sarri vede lo scudetto tra i guai. Senza Chiellini, troppi gol presi. Il brasiliano salta il Leone. E poi ultima notizia. Alex, lottiamo con te. Bansia per Zanardi è in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Condizioni instabili. E quindi torna in ospedale Alex Zanardi. E con la Gazzetta dello Sport concludiamo il nostro appuntamento con l'informazione del mattino. Appuntamento alle 14.00 per la seconda edizione del nostro telegiornale. Buona giornata a tutti voi.